Ciao ragazzi, bentrovati, torniamo a parlare della Seconda Guerra Mondiale. Nella precedente video-lezione abbiamo analizzato l'anno 1943 e quella svolta che porterà gli alleati in vantaggio rispetto agli eserciti dell'asse. Adesso qui cerchiamo di analizzare l'ultimo anno, anno e mezzo della Seconda Guerra Mondiale per quanto riguarda però lo scenario europeo, quindi la conclusione di questo gigantesco conflitto, partendo da un momento di svolta fondamentale che è la cosiddetta Operazione Overlord. Operazione Overlord, ovvero quell'operazione studiata dagli alleati per molto tempo, già concordata con l'argo anticipo, con cui gli anglo-americani, Stati Uniti e Gran Bretagna, puntavano a riconquistare il continente, quindi riaprire il fronte occidentale in Europa contro la Germania nazista di Hitler, partendo dalla liberazione della Francia. Questa massiccia operazione sarebbe poi confluita nello sbarco in Normandia, questa grande operazione anfibbia, cioè in cui abbiamo al contempo mezzi aerei, mezzi navali, che avvenne il 6 giugno del 1944, il cosiddetto D-Day, giorno ancora oggi festeggiato e celebrato negli Stati Uniti, perché è il giorno che in effetti segnerà una svolta ulteriore nei rapporti di forza tra i due schieramenti, ed è un'operazione che coinvolge appunto gli Stati Uniti con truppe guidate dai generali George Patton e Dwight Eisenhower, entrambi erano già stati impegnati in Africa e poi nella campagna del Mediterraneo, truppe britanniche guidate dal generale Bernard Montgomery, ma anche truppe canadesi e una parte di soldati francesi che combattevano per la resistenza contro l'occupazione tedesca. Ora, i tedeschi ovviamente si aspettavano prima o poi un attacco da parte degli alleati in terra francese, ma concentravano la loro attenzione su Calais, Calais cittadina portuale, che si affaccia sul canale della Manica, ed è quella, come dire, più spostata verso est, e quindi più vicina sia a Parigi sia poi al confine con la Germania. Quindi era lì che erano maggiormente preoccupati i tedeschi di bloccare un potenziale arrivo di truppe degli alleati. Invece questa operazione avviene in Normandia, ovvero molto più a ovest, laddove non c'erano così tante preoccupazioni da parte dei tedeschi. È un'operazione molto difficile perché comunque c'è una forte resistenza da parte delle truppe naziste e ci sono condizioni atmosferiche anche avverse. È un'operazione che avviene in diverse spiagge, in diversi punti della costa normanna. Andrà avanti per diversi giorni poi. Tra l'altro lo sbarco in Normandia viene descritto magistralmente proprio nella parte iniziale del famoso film Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg. Ecco, questa operazione massiccia però ha successo. Ha successo per l'impegno e l'organizzazione da parte delle truppe degli alleati. Ha successo anche per gli errori tattici della Germania nazista perché i generali tedeschi non, come dire, non danno troppo peso, non danno eccessivo peso anche per le indicazioni di Hitler a questa operazione militare continuando a ritenere invece che il pericolo sarebbe venuto da Calais. Quindi, nell'arco del mese di giugno ci saranno moltissimi scontri e man mano le truppe degli alleati inizieranno a dilagare all'interno della Francia. Dunque, l'estate del 1944 è un'estate di guerra e di combattimenti un po' in tutto il territorio francese e il 25 agosto 1944 finalmente avviene la liberazione di Parigi, ovvero a partire da truppe francesi, della resistenza francese eseguite poi da truppe anglo-americane, gli alleati entrano a Parigi, una Parigi finalmente libera dai tedeschi e questo avvenimento segna intanto il trionfo degli alleati per quanto riguardava il fronte occidentale, la definitiva liberazione della Francia. Nel frattempo crolla infatti anche quello stato fantoccio e collaborazionista che era la Repubblica di Vichy nel sud del paese e nell'arco di un'altra decina di giorni gli alleati arriveranno anche in Belgio, libereranno Bruxelles e giungeranno fino al confine ovest con la Germania. Ma l'estate del 1944 segna importanti novità anche per quanto riguarda il fronte orientale, ovvero nel confronto fra l'armata tedesca e la cosiddetta armata rossa, ovvero le truppe dell'Unione Sovietica che avevano sconfitto i tedeschi in Russia, quindi il fallimento dell'operazione Barbarossa, e dopodiché l'armata rossa stava avanzando verso ovest per riconquistare quei territori dell'Europa orientale che erano occupati dai tedeschi. Quindi ci sono, a partire dalla fine del giugno del 1944, una serie di combattimenti in Bielorussia. Man mano c'è una massiccia avanzata dell'armata rossa, ad agosto inizia il famoso episodio della rivolta di Varzavia, ovvero la resistenza polacca, inizia a scontrarsi con i tedeschi nel tentativo di liberare la capitale, di liberare la città di Varzavia. Sarà un momento tragico, estremamente difficile, con appunto combattimenti che si svolgono fra le vie della città, e ci sarà però appunto la repressione molto dura da parte dei tedeschi e un temporaneo blocco sia di questo tentativo della resistenza partigiana polacca, sia anche dell'avanzata dell'armata rossa. Quindi l'arrivo dell'autunno del 1944 segna una battuta d'arresto per quanto riguarda il fronte orientale. In ogni caso, comunque, l'armata rossa prosegue le sue operazioni, in particolare nell'area più meridionale, fino ad arrivare a attaccare e colpire le forze dell'asse nell'area della penisola balcanica. Ecco, per darvi un'idea un po' più precisa, questa è la situazione che si presentava in Europa alla fine del 1944. le linee rosse segnano il fronte, dove era arrivato il fronte a quel punto, sia per quanto riguardava il fronte occidentale, quello del confine tra Germania e Francia, sia per quanto riguardava il fronte orientale con l'avanzamento dell'armata rossa. Come vedete, era riuscita l'armata rossa anche a liberare, col contributo ovviamente della resistenza partigiana dei vari paesi, l'area della Jugoslavia, gran parte della Jugoslavia, la Bulgaria, la Grecia, insomma tutta l'area balcanica, man mano era tornata libera rispetto all'occupazione nazifascista. I primi mesi dell'anno 1945 vedono nuovi scontri particolarmente intensi e sanguinosi, intanto nell'area di Budapest, dove l'armata rossa affronta i tedeschi per liberare l'Ungheria, e poi invece un ultimo, probabilmente disperato, tentativo da parte di Adolf Hitler di sovvertire le sorti della guerra sul fronte occidentale. Infatti all'inizio del gennaio del 1945 i tedeschi tentano un attacco sull'area delle Ardenne, le Ardenne sarebbe quest'area collinare in Belgio, dove si trovava una parte delle truppe alleate, delle truppe anglo-americane, ecco per un paio di settimane vanno avanti questi scontri, c'è questo attacco un po' a sorpresa da parte dei tedeschi, con decine e decine di migliaia di morti nell'arco di pochi giorni, ma anche questo attacco fallisce, perché a metà gennaio ormai anche le Ardenne sono sotto il controllo completo degli alleati, a questo punto la Germania nazista non ha più alcuna chance effettivamente di prevalere contro gli alleati. Sempre a gennaio riprendono i combattimenti fra l'armata rossa e i tedeschi anche nel territorio della Polonia, la Polonia progressivamente viene liberata e il 27 gennaio del 1945 una data particolarmente importante perché le truppe sovietiche arrivano al campo di concentramento di Auschwitz. Auschwitz, uno dei tanti campi di concentramento realizzati dalla Germania nazista nei vari territori occupati dalle forze dell'asse, ecco è diventato il simbolo tragico dell'olocausto, della Shoah, e il 27 gennaio, proprio per ricordare la liberazione del campo di Auschwitz, è la giornata della memoria, la giornata dedicata al ricordo della Shoah e delle vittime di questo genocidio. Alla fine di gennaio i sovietici sono penetrati ormai in Germania, giungono ad appena 80 chilometri da Berlino, ma in questo momento l'avanzata dell'armata rossa si arresta, anche perché all'inizio del febbraio del 45 c'è un importante incontro, la conferenza di Yalta in Crimea, laddove si vedono nuovamente faccia a faccia i cosiddetti tre grandi, cioè i tre leader dei principali paesi delle forze alleate, ovvero Franklin Delano Roosevelt per gli Stati Uniti, Winston Churchill il primo ministro britannico e Joseph Stalin, vittatore dell'Unione Sovietica. Concordano le strategie per questi ultimi mesi di guerra e iniziano, diciamo, a studiare anche quello che sarà il piano per l'Europa una volta finito il conflitto. C'è però un fronte europeo che ancora non abbiamo analizzato, per cui interrompiamoci un attimo e facciamo un passo indietro e passiamo al fronte italiano. Allora, in Italia nel gennaio del 1944 c'è un'operazione militare molto importante da parte degli angloamericani, ovvero lo sbarco ad Anzio. In pratica gli angloamericani puntano ad aggirare la linea Gustav, la linea difensiva dei tedeschi, sbarcano sulla costa del Lazio e nel corso delle settimane e dei mesi successivi ci saranno tutta una serie di scontri fra gli angloamericani e le truppe tedesche che occupavano il centro Italia. Finalmente, il 5 giugno, gli angloamericani entrano a Roma. Roma viene liberata dai tedeschi dopo un'occupazione durata praticamente quasi nove mesi. Continua l'avanzata degli angloamericani, che a questo punto avanzano verso il centro-nord dell'Italia, soltanto che queste operazioni si bloccano poi nell'autunno del 1944 lungo la cosiddetta linea gotica, cioè la linea difensiva tedesca, più o meno all'altezza dell'Emilia Romagna, fra Emilia Romagna e Toscana. L'inverno purtroppo era il periodo più difficile per sperare di guadagnare terreno e di far avanzare un grosso contingente di truppe, quindi l'inverno del 1944-1945 segna un momento di pausa, comunque di rallentamento nelle operazioni militari, ma poi tra il marzo e l'aprile del 1945 riprende con maggior forza e maggior vigore l'avanzata degli angloamericani verso il nord Italia, fino a rompere la linea Gustav. Nel frattempo anche la resistenza partigiana si era fatta ancora più intensa, ancora più bellicosa, e si arriva a quella data fondamentale che è il 25 aprile del 1945, quando il CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale, proclama l'insurrezione generale in tutta l'Italia, quel poco dell'Italia che era ancora nelle mani dei nazifascisti, quindi il territorio della cosiddetta Repubblica di Salò, quindi la resistenza riesce a liberare Milano e contemporaneamente in altre città importanti del nord Italia c'è una rivincita dei partigiani che riescono a prendere il controllo effettivamente di queste città. Il 25 aprile diventa così la festa della liberazione, una festa nazionale per ricordare proprio la liberazione dell'Italia dal nazifascismo, ovvero dagli occupanti tedeschi ma anche dai fascisti, da ciò che rimaneva della ex dittatura fascista. Il 27 aprile i tedeschi firmano la resa di Salerno con gli angloamericani, con gli alleati, quindi cedono definitivamente rispetto al territorio italiano che avevano occupato fino a poco prima. Nel frattempo Benito Mussolini viene arrestato mentre di nascosto tentava di attraversare il confine travestito da soldato tedesco e il 28 aprile, dopo un rapidissimo processo, viene fucilato e poi ci sarà l'episodio anche di Piazzale Loreto. Piazzale Loreto è una piazza di Milano dove appunto poco tempo prima c'era stata l'esposizione dei cadaveri di alcuni partigiani uccisi da parte dei fascisti e a Piazzale Loreto verranno esposti i corpi di Mussolini, di Clara Petacci che appunto era la compagna con cui stava tentando di fuggire e anche questo episodio, pur nel suo essere così cruento, è diventata una delle immagini simbolo della fine del fascismo. Proprio nei giorni in cui avveniva la liberazione dell'Italia stavano crollando però anche le ultime difese tedesche in Germania. Hitler non aveva voluto arrendersi, non aveva voluto provare a scendere a patti con gli alleati e quindi i tedeschi, le truppe tedesche, sono costrette fino all'ultimo a continuare in questo bagno di sangue. La Germania nel frattempo viene bombardata, viene bombardata dagli alleati con la distruzione di Dresda, la distruzione di varie città tedesche. Sarà un periodo devastante questo per la Germania con danni enormi e tantissime altre vittime. Nel frattempo il 16 aprile l'Armata Rossa sovietica quindi sferra l'attacco decisivo a Berlino e tutta la seconda metà di aprile vede appunto una battaglia vera e propria nel cuore della Germania, a Berlino. Il 30 aprile è una data decisiva perché Adolf Hitler si suicida, si fa sparare nel bunker in cui era rinchiuso insieme ai suoi gerarchi, anche altri gerarchi nazisti si uccidono e quindi in pratica il 30 aprile segna la fine di Hitler e la fine del nazismo. Infatti nell'arco di un paio di giorni Berlino sarà definitivamente sotto il controllo dei sovietici. Dopo la morte di Hitler la guerra continuerà per appena una settimana in territorio europeo. Infatti fra il 7 e l'8 maggio vengono firmati due accordi di resa da parte della Germania nei confronti degli alleati. Si tratta di una resa incondizionata, cioè la Germania non chiede condizioni, non prova a trattare, non è in grado di trattare con gli alleati. Quindi l'8 maggio, quando viene firmato quest'ultimo accordo di resa, finisce ufficialmente la seconda guerra mondiale in Europa. Rimane aperto un fronte, ovvero il fronte del Pacifico, il fronte che vede coinvolti principalmente Stati Uniti e Giappone, anche se pure da quel lato ormai le sorti della seconda guerra mondiale sono segnate. Da lì infatti ad appena tre mesi all'inizio dell'agosto del 45 ci sarà lo sgancio delle due bombe atomiche e poi da lì a poche settimane la fine totale della seconda guerra mondiale. Grazie. Grazie.